Tra bellezza e intelligenza, lei cosa preferisce? Devo rifare la domanda? No, credo di averla capito, però se me la ripetono magari... Tra bellezza e intelligenza. Dunque, molte sue colleghe, scusi un attimo, molte sue colleghe, hanno accettato di farsi fotografare per calendari o se. Lei personalmente, cosa prova nel posare nuda? C'è un senso di solitudine, ma tanto prima o poi qualcosa arriva? No, il piacere, essere guardata, è bellissimo. Poi posso dare il meglio di me stessa. Complimenti. Me la darebbe? A lei? Ma ero venuta con questo pensiero, però credo proprio che se la può scordare. Ah, capito. Dice così perché sono di D'Aspezia? No, perché non è il tipo adatto. Ah, complimenti. Dunque, Alessia Merza, sempre a proposito dei calendari, il suo ha venduto moltissimo. Sì. Lo possiamo considerare un evento culturale, visto che non si è ancora rifare dalle tette? Ma io dirò una gran botta di culo. Ah, complimenti, questa è una grande, bella risposta. Dunque, Alessia Merza, le leggo che hai scritta l'Aido. Ok.